A conclusione del progetto che ha visto vincitrice la scuola secondaria di primo grado Sandro Pertini di Ortanova, venerdì 19 maggio alle 10.30 presso Largo Ex Gesuitico, si terrà la manifestazione conclusiva della giornata nazionale della scuola Parole in Musica. Il diatore e referente del progetto è il professor Ciuffreda, docente di strumento musicale alla scuola Pertini. Il progetto la giornata nazionale della scuola Parole in Musica ha visto partecipare la nostra scuola come unica scuola vincitrice in tutta la provincia di Foggia. L'obiettivo principale è stato quello di mettere al centro delle attività i nostri alunni, hanno partecipato 111 alunni con la funzione delle varie discipline, la musica in particolare, la letteratura e l'arte figurativa. Si è partiti dai testi di Romeo e Giulietta per arrivare poi al musical West Side Story. Il tema principale è West Side Story, siamo passati dalla parte letteraria, questa tragedia d'amore Romeo e Giulietta di Shakespeare, alla parte musicale di Bernstein dove ci sarà l'esecuzione dei brani originali della nostra orchestra del corso musicale della scuola Sandro Pertini di Ortanova. Una bella soddisfazione vincere in pratica questa sorta di gara tra scuole a livello provinciale. La mia più grande soddisfazione è vedere le componenti della scuola che hanno avuto un indirizzo, un traguardo solo, quello di cooperare fra di loro, quello di spingere, sollecitare gli alunni all'integrazione, alla partecipazione, alla promozione di se stessi. Si esce dai banchi per fare qualcosa di diverso. Questo diminuisce tutte quelle che sono le cause del disagio sociale, della dispersione e della mancata integrazione. Si possono promuovere all'interno della scuola anche attività che coinvolgano direttamente gli alunni. Questo progetto tra l'altro è stato finanziato dal MIUR. Il progetto, diciamo, il bando è stato emanato dal MIUR ma rientra nell'ambito del DPR del Presidente della Repubblica dove ogni scuola si è potuto candidare con un'idea progettuale e quindi in un certo senso questa commissione del Ministero ha stabilito che Orta Nuova era l'idea più convincente. Logicamente la nostra scuola si occupa di vari progetti che riguardano l'integrazione, la dispersione, i PON, l'area a rischio. Quindi è una scuola, diciamo, sempre inattivo con tutte le problematiche riservate anche alla parte, diciamo, logistica strutturale. L'appuntamento quindi è per il 19, la 10.30 da Orta Nuove dove ci sarà questa Kermess dal vivo praticamente? Sì, sì, dove tutti gli alunni parteciperanno e si esibiranno in questa mattinata di musica dedicata interamente alla scuola.